Finalmente felice della liquidazione di un diritto in fondo di molti anni fa. Diamo merito a Consulcesi della costanza e della perseveranza che forse un singolo privato non avrebbe avuto. Si sarebbe snervato prima, però bene, molto bene. Essendo io stato tra i primi e anche con un aspetto un po' pionieristico, direi che adesso la strada è tracciata e quindi forse il percorso diventa anche più semplice per tutti. Quindi di affidarsi ai professionisti della materia e di avere fiducia. Lo definirei come efficiente e anche cordiale. Abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti e quindi mi sento di consigliarlo anche ai colleghi. Grazie a tutti.